A Mussomeli qualcosa si muove anche per quanto riguarda la crescita del turismo. Dopo varie campagne di marketing, tra cui l'adozione delle case ad un euro, dopo varie campagne di crowdfunding volte a far crescere l'interesse verso la cittadina, adesso l'amministrazione, guidata dal ne eletto deputato regionale Giuseppe Catania, punta ad un finanziamento importante. Con questo si vuole replicare l'iniziativa di successo di Sciacca, quella del Museo Diffuso dei Cinque Sensi che ha fatto registrare un approccio di sistema al tema dello sviluppo turistico sostenibile, con benefici economici per tutta la popolazione. Il Comune di Mussomeli dunque ha presentato un progetto ambizioso che prevede un finanziamento di quasi 2 milioni, 1,9 per l'esattezza, a valere sulla misura Montagne Italia del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo. Ed il progetto ha come fine quello di creare le condizioni per valorizzare la comunità. Questo coinvolge molti partner, interni ed esterni, con esperienze già nel terzo settore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, tramite le parole del primo cittadino del luogo Giuseppe Catania, rilasciata ai nostri microfoni. Abbiamo presentato come Comune di Mussomeli, insieme a vari partner locali, regionali ma anche nazionali, un progetto Mussomeli Genius Loci di 1,9 milioni basato su un viso pubblico del Ministero del Turismo. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio materiale e materiale presente nel territorio, costruire una nuova offerta turistica sulla scorta di un segmento di mercato particolarmente in crescita in questi ultimi anni, che è il turismo relazionale. La costruzione del progetto è stata fatta a più mani, coordinata da un'equipe di esperti, tra i quali Viviana Rizzuto, che è l'ideatrice del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, che ha vinto vari premi a livello nazionale come migliore start-up nel settore turistico. Tra i vari interventi, ricordo interventi finalizzati alla valorizzazione della settimana santa con il coinvolgimento del confraternite, interventi finalizzati alla realizzazione di eventi di richiamo turistico, sia sul piano sportivo che sul piano artistico, e ricordo anche la sceneggiatura di una serie televisiva da realizzarsi sul nostro territorio, che ha come obiettivo quello di promuovere i profumi, i sapori, i paesaggi del territorio, ovviamente in chiave romanzesca.